gioie del deserto vediamo questo video in cui mi avete menzionato ok no vabbè la ragazza che separa i capelli con una mattita io mi spacco che queen vabbè ma il sorriso della ragazza amiche vabbè lasciamo perdere io innamorato innamorato comunque ok stiamo scolando decolorante con l'ossigeno mi raccomando amiche con l'ossigeno andateci piano perché è pericoloso decolorare i capelli a casa una cosa che vi consiglio è di non fare come la ragazza a me di districare i capelli col decolorante in modo tale che arrivi ovunque ok decolorato tutto ok no vabbè no vabbè ma io amiche ma no ma poi li aveva lunghissimi no vabbè lei ride io morto amiche ho perso un pezzo di cuore no vabbè